Il test NIPT, acronimo di Non-Invasive Prenatal Test, permette di individuare da una semplice prelievo sanguigno eventuali anomalie cromosomiche del feto. Un altro esempio di assoluta eccellenza nel ricco carnet presente nel CAST, Center Advanced Studies and Technology dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Un test di screening sul DNA fetale che consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la più rischiosa ed invasiva amniocentesi, riuscendo a individuare eventuali anomalie cromosomiche del feto da un semplice prelievo sanguigno della futura mamma. Il test può essere eseguito oltre la decima settimana di gestione. Attraverso un complesso sistema totalmente robotizzato, grazie ad algoritmi esclusivi, viene calcolata la proporzione di frammenti specifici provenienti dal feto e di rilevare eventuali anomalie nel numero di copie dei cromosomi fetali. I risultati sono generalmente garantiti entro una settimana lavorativa. Per le più comuni anomalie che andiamo ad indagare, che sono trisomie 13, 18, 21, le anomalie cromosomi sessuali, l'accuratezza della diagnosi e del test è sicuramente in questo range del 98-99%. Maggiori informazioni si possono avere telefonando allo 0871 35 55 251 o visitando il sito internet del CAST. La cosa importante è che offriamo un servizio di consulenza gratuito per una scelta consapevole del test. Questo è fondamentale, il rapporto diretto tra lo specialista e le donne per la scelta consapevole. Steady Screening sul DNA fetale è un servizio d'eccellenza che si va ad aggiungere, professor Guanciali, a tutti gli altri servizi all'interno di questo dipartimento. Sì, perché già abbiamo tutto quanto la diagnostica delle malattie genetiche. In più sta partendo tutto il servizio per quanto riguarda le malattie cromosomiche, quindi alterazione nel numero e nella struttura dei cromosomi. E in più abbiamo anche un nuovo servizio d'avanguardia per quanto riguarda il DNA fetale nel sangue materno per lo screening delle principali anomalie cromosomiche tipo la sindrome di Down che è la più comune di tutte. È un risultato molto importante, questa tecnologia verrà introdotta probabilmente al più presso nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza e quindi si avrà la totale gratuità per le donne che faranno questo test e credo che per l'Abruzzo sia un risultato importantissimo. Noi stiamo perseguendo questa filosofia dell'eccellenza a tutti i livelli. Il CAST è solo uno degli esempi. Non dimentichiamo che abbiamo contribuito a far diventare l'Abruzzo la prima regione italiana per capacità di sequenziamento del Covid. Siamo il laboratorio, è l'Abruzzo la regione dove si fanno più screen neonatali al mondo. Adesso diventiamo il primo laboratorio pubblico che fa questa tecnica. Due giorni fa siamo diventati il primo laboratorio italiano ad avere la certificazione Green Lab. Io credo che dobbiamo proseguire su questa strada. L'adannunzio vuole diventare eccellenza.